a Che palla ci torno Chi è? Chi è? Non c'è nessuno Oh, non c'era nessuno Vieni a vedere con me qui, eh Dai Non c'è nessuno Sì Tim, messaggio creduto Il tuo credito è saurito Cazzo Con questo potrebbe andare Pronta? Pronta Viva di gioco Bell, non ti prende Ma che odica Non prende, Bell Sei scemo Sei scemo Ehi Chiudo dai So il bagno là Va bene Aspetta qui Ma che? Ma che? Ma che? Ma che? Ma che? Chi c'era? Ho sentito una voce L'ho sentita la voce L'ho sentita, l'ho sentita C'era la voce Ho sentito una voce Pit, pit, pit Ho visto qualcosa Ho visto qualcosa Ho visto qualcuno Ma cosa cazzo stai guardando? È la Belly Belly Chi è adesso? Benedetta parola 130 grammi di Emmental Sì, no Te lo vuoi dire Emmental Non ti prende Buongiorno a questo giorno qui si sveglia di me Buongiorno alla Cazzo Non è che male per stare calmo E guardare il video della Benny Ops Cosa stai guardando? La Benny? Si E guarda Pagina per i bimbi Mi raccomando con la grattugia La dama te lo mangi? No L'ho provato ad usare una volta Ma non Non è buona Si E la ricetta non viene E Si 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 Si